La variante inglese mette in ginocchio la rete ospedaliera abruzzese. Circa 2 su 3 dei contagiati ha contratto il ceppo inglese del virus e aumentano i ricoverati. 78 posti letto occupati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri con 12 nuovi accessi. Nemmeno a novembre, nel pieno della seconda ondata, è stato raggiunto un numero così alto di ricoverati in rianimazione. Il tasso di occupazione è intorno al 40% a fronte di una soglia ed allarme del 30%. Percentuale simile in area medica, a fronte però di una soglia ed allarme del 40%. Qui i ricoverati sono 595, 2 in più rispetto a ieri. Tantissimi anche i decessi. Oggi le ASL hanno comunicato ulteriori 24 morti. Si tratta di persone d'età compresa tra 60 e 96 anni, 20 delle quali in provincia di Pescara. Nelle ultime ore, 322 positivi su 8.420 test tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività del 3,8%, che sale al 7,9% se si considerano solo i tamponi molecolari. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano 94. Di loro 137 sono del Pescarese, 84 del Teramano, 76 del Chietino e 27 dell'Aquilano. 447 guariti. Al netto di decessi, guariti e nuovi casi, attualmente in Abruzzo sono 12.823 positivi accertati, 149 in meno rispetto a ieri.